La fase anticiclonica calda al suo apice tra venerdì e sabato. Da sabato depressioni sul nord Europa tenderanno a portare aria più fresca verso le Alpi e quindi ad aumentare l'instabilità nella giornata di domenica in particolare sulla nostra regione. Per quanto riguarda la giornata di sabato avremo prevalenza di sole con cielo sereno poco nuvoloso sulla regione, temperature ancora molto alte con minime sui 27 gradi sulla costa, 22 in pianura e massime a 35 gradi in pianura, 32 lungo la costa. Dal pomeriggio sarà possibile qualche isolato temporale sui monti, non è escluso che verso sera qualche isolato temporale interessi anche la pianura. Per la giornata di domenica avremo variabilità anche se la situazione è piuttosto incerta, fasi di tempo bello si alterneranno a dei temporali sparsi che localmente potrebbero essere anche forti viste le temperature. Temperature massime intorno ai 30 gradi domenica sia sulla pianura che sulla costa, area più fresca arriverà lunedì mattina quando ci saranno delle piogge residue ma poi dal pomeriggio ci sarà un generale miglioramento. Martedì bel tempo con temperature gradevoli su tutta la regione. Dall'osservatorio metro regionale dell'ARPA un saluto da Marcelino Salvador.